Esami scritti? A chi che non fanno un po' paura? Saranno i banchi sistemati a chilometri di distanza gli uni dagli altri? Saranno gli assistenti che si aggirano per l'aula come avvoltoi? Non sarà quel foglio protocollo pieno di domande che a stento riusciamo a decodificare? Qualunque sia il motivo, gli esami scritti possono metterci un po' in crisi, quindi vi propongo oggi tre consigli tirati fuori direttamente dal mio videocorso di metodo di studio Sistema ADC. Poi ne riparliamo, trovate il link qui sotto. Per prima cosa, se si tratta di domande scritte su argomenti di teoria, cominciate sempre dalla risposta precisa alla domanda e solo in un secondo momento argomentate e approfondite con altri concetti e altri collegamenti. Questa strategia semplice ma davvero efficace vi permette di ottimizzare il risultato perché aiuta chi leggerà poi l'elaborato, il professore o gli assistenti, a capire subito se avete inquadrato l'argomento e se padroneggiate le informazioni necessarie per costruire un discorso coerente ed esaustivo. In più, strutturando bene la vostra risposta, non innervosite i professori costringendoli a leggere paragrafi su paragrafi di giri di parole per arrivare al cuore del contenuto. Dritti al punto e poi si aggiunge. Credetemi, il voto poi rispecchierà la gratitudine dei professori o il loro eterno sdegno. Attenzione anche alla forma del testo quando rispondete a delle domande scritte. Vi prego, vi prego, vi prego, evitate di lanciarvi in composizioni di alta prosa che vi fanno sembrare altezzosi e potentissimi scrittori, penna d'occa. Niente di tutto questo, meglio tenere una scrittura semplice e chiara e anche questo contribuisce a dare risalto alla vostra preparazione perché non avete bisogno di chissà quali stratagemmi o magheggi per mettere nero su bianco le informazioni che avete, per andare dritti al punto e rispondere a quello che l'insegnante vuole sentirsi dire. Attenzione, questo non vuole dire che dovete stare alla larga dal lessico tecnico, anzi tutt'altro. Il punto è usarlo solo quando è necessario e non usare costruzioni o terminologie particolarmente raffinate e difficili da utilizzare che poi all'atto pratico sono controproducenti. Se scegliere un termine specifico vi aiuta a dimostrare quanto è profonda la conoscenza della materia, allora procedete senza pensarci due volte, non siate approssimativi o sciatti, ma se volete soltanto dare sfoggio delle parole che avete memorizzato dal dizionario dei sinonimi e dei contrari, lasciate perdere. L'unica cosa che conta, l'unica vera unità di misura è l'esaustività. Se vi focalizzate troppo sull'idea di dover scrivere un tot di frasi per ogni risposta, sulla lunghezza o sulla complessità perché vi vergognate di un elaborato troppo breve o perché avete paura di scrivere troppo o troppo poco, state perdendo di vista l'obiettivo. Ed ecco che la lunghezza di una risposta non è un buon indicatore della sua correttezza. Punto. In questo caso vale il principio alla base della legge di Goodhart, che era un economista, ma a noi fa comunque comodo citarlo anche in questo senso. Quando una misura diventa un obiettivo, smette di essere una buona misura. Ecco, se volete misurare la correttezza o la completezza di una risposta solo dal numero di parole o di righe che avete impiegato, siete fuori strada, capite? Ci sono solo due parametri da prendere in considerazione davvero. Uno, la risposta riporta il contenuto informativo necessario, quello richiesto? E due, il concetto chiave si trova all'inizio del vostro ragionamento, si individua facilmente, si capisce bene? Voi procedete con queste due domande, questi due punti in mente e vi orienterete sempre nella giusta direzione. Bonus, quando si tratta di rispondere a delle domande molto ampie, ogni tanto capita, la trattazione magari richiede anche un'intera pagina, ecco a quel punto conviene magari buttarsi giù uno schematto rapido, una scaletta rapida, in una brutta copia, giusto per avere tutti i punti che vogliamo trattare e assicurarci di aver progettato per bene la risposta prima poi di eseguirla effettivamente penna alla mano. A questo punto il quadro è chiaro quando dovete rispondere a delle domande per iscritto, ma prima di chiudere voglio darvi anche un ulteriore consiglio bonus. Se la scrittura è un vostro punto di debolezza e avete difficoltà a capire da dove partire senza soffrire dal panico da pagina bianca, organizzate anche delle simulazioni. E già lo so, vi sento a lamentarvi perché le simulazioni portano a mio tempo, sono noiose, non sapete su quali domande basarvi e come la faccio e come non la faccio e come mi organizzo. La verità è che esercitarvi sulla prova d'esame è fondamentale, non potete e non dovete evitarlo. Non basta solo verificare le conoscenze acquisite con il classico testing che ci sta e ovviamente è la base dello studio, ma dovete padroneggiare anche le modalità e le tempistiche dell'esame. Quindi almeno una volta, una o al massimo un paio di volte prima di affrontare la prova vera e propria, simulate. È un esercizio questo che fa parte della fase di applicazione e di ripasso del metodo di studio che insegno proprio in sistema DC ed è cruciale perché vi mette alle strette e vi dà un assaggio di tutti i punti critici che potreste incontrare in sede d'esame, dandovi modo di perfezionare la vostra preparazione e al tempo stesso ottimizzare la performance in un colpo solo. E per favore non fatevi fregare dalla voglia di evitare questo passaggio solo perché è un pochettino più faticoso. Ve l'ho già detto una volta, eliminiamo dalla nostra testa la mentalità della scorciatoia come la peste. Se invece il vostro esame scritto è un testa crocette, prendete carta e pena e iniziate a ideare un test oppure procuratevi un facsimile degli anni precedenti. Se invece si tratta di domande a risposta aperta, come abbiamo discusso prima, immaginate su quali temi potrebbero concentrarsi i professori o le professoresse oppure sfruttate le domande di approfondimento che trovate anche nei libri di testo se le avete a disposizione. O parlate con degli studenti che hanno affrontato l'esame l'anno prima o la sessione precedente e fatevi dire più o meno come si svolgerà. In ogni caso preparate un compito il più possibile simile a quello che poi dovrete affrontare davvero il giorno dell'esame e rispettate le regole e i tempi che dovrete seguire realmente in università. Siate realistici al massimo nella vostra simulazione anche e soprattutto nella fase poi di autovalutazione. E fatto tutto questo non vi resterà che dare il meglio di voi. Ah e ricordatevi di mettere il vostro nome sul foglio, la percentuale di studenti che si dimenticano di questo particolare vi sorprenderebbe. Chiudo ricordandovi che se volete portare il vostro metodo di studio veramente a un altro livello, Sistema DC è il corso che fa per voi. Trovate il link qui sotto e tutte le informazioni per entrare nel metodo più efficace, più efficiente, più scientifico che si trova in circolazione. Sistema DC è veramente il fiore all'occhiello della nostra produzione, ne vado fierissimo. È il corso in cui ho messo tutto quello che so, la mia anima e ormai ci sono migliaia e migliaia di studenti soddisfatti. Trovate le recensioni su Trustpilot entusiastiche, state sicuri è un corso bomba e appena potete farlo buttatevi ci perché fa veramente la differenza. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato, fatemi sapere qui sotto quali sono gli esami scritti che vi hanno messo più in difficoltà e noi ci rivediamo al prossimo video.